tante idee per portare i pantaloni in lino d'estate ciao sono patrizia questo è il mio canale patò 74 dove parlo di moda tendenze moda come vestirsi e disegno il figurino perché sono una stilista vediamo come portare i pantaloni in lino me l'avete chiesto rispondo alle vostre domande dandovi delle idee nei miei video ci sono consigli allora vediamo la prima diapositiva di come portare questi pantaloni in lino sicuramente quando è estate che fa caldo la canotta adesso va molto di tendenza la canotta molto accollata però super smanicata all'americana col collo che va su è una moda quindi io ti faccio vedere il tipo di modello di canotta che si usa a portare adesso che è anche perfetto sopra ai pantaloni in lino larghi sono pantaloni lunghi io nella maggior parte dei casi vi faccio vedere pantaloni in lino lunghi va di moda il pinocchietto molte di voi lo amano molte di voi non lo amano direi che in lino non aiuta perché il pinocchietto abbassa molto direi che non aiuta la figura a essere più slanciata poi se te lo vuoi mettere te lo metti vi faccio vedere come questi pantaloni in lino lunghi un po larghi sono comodissimi li puoi portare con la canotta sia una canotta con una versione un po più sportiva come nel primo outfit ce l'ha portata un po fuori è un outfit molto rilassato con dei sandali bassi l'importante è che l'orlo sia la lunghezza del pantalone sia pensata per coprire un pochettino il collo del piede e non ammucchiarsi per terra vi farete fare l'orlo del pantalone pensando alla scarpa che è più probabile che portate con quel pantalone quello è sempre il trucco se d'estate sei abituata a portare le scarpe basse il pantalone ti farai fare la misura con la scarpa bassa se lo vuoi portare con una zeppa magari intrecciata che va molto di moda e sta molto bene sotto il pantalone in lino io la trovo stupenda lo farai fare un po più lungo perché si appoggerà il collo del piede e andrà a coprire il tallone del piede ma perché perché hai un tacco se non porti il tacco il pantalone deve essere fatto a misura in questi quattro outfit ci sono degli outfit con la cintura e senza cintura dipende anche qui la cintura rende più elegante l'outfit su un pantalone non dovrebbe segnare tanto la pancia ragazze poi dipende sempre se hai passanti ci sono i pantaloni in lino che hanno la cintura con l'elastico e lì allora la cintura l'appoggerai sopra adesso vanno molto di moda le cinture vanno anche molto di moda le cinture alte come si usava negli anni 2000 è ritornata quella tendenza gli anni 2000 sono molto in tendenza già da un po e quindi si portano dietro anche tutto il mondo delle cinture anche quelle alte alte da portare proprio sopra anche nei pantaloni che non hanno passanti proprio come decorazione se ti piacciono gli accessori è perfetta la cintura se il pantalone è tutto elasticato e quell'effetto non ti piace ci metti sopra una cintura che però deve essere alta abbastanza da coprirlo quello elastico è quello può essere un trucco in genere la maggior parte delle donne porta di più i tacchi d'inverno è stata una ciabattina tipo hermes va bene o anche una superga in tela una all star una scarpa da ginnastica in tela fine delicata o una pantofola o un sabò vai a vedere perché ti ho fatto il video con tutte le scarpe di tendenza per quest'anno e ti parlavo sia delle pantofole che dei sabò quindi sotto il pantalone di lino ci puoi mettere davvero tantissimi tipi di scarpe dipende da come sei abituata e che tipo di scarpa ti piace perché poi ogni stile va adattato ai gusti di ognuna di voi perché poi con la scarpa bisogna starci anche comoda detto questo vediamo come questi outfit hanno dei colori naturali perché lino si presta molto bene come materiale ad essere fatto in colori naturali dai beige ai nocciola e sta bene a tutte le donne chiaramente quelle che sono abbronzate vincono perché mettendo una canottiera bianca si esalta l'abbronzatura però si possono mettere anche canottiere colorate direi che l'abbinamento del pantalone di lino largo e la canotta come si usa adesso la moda molto accollata all'americana è perfetto altro outfit vediamo la canotta monospalla anche top un po cortina è molto bella se il pantalone a vita alta adesso ritorna di moda la vita alta per cui pantalone in lino con cintura e top corto monospalla come vedi il primo outfit gioca col bianco e col blu e poi agli abbinamenti della borsa in paglia e della cintura color cuoio che è molto chic ti ho fatto un video dove ti parlavo dei trucchi per essere elegante subito te lo metto qui vallo vedere la canotta sta bene anche con sopra una camicia portata aperta va molto di tendenza la camicia a righe azzurre perché non mettercela che non sia una camicia troppo lunga perché poi avrai il pantalone largo con questo camicione sopra fa sacco su sacco la camicia deve essere corta a parte che adesso la moda è di questa camicia un po più corta per cui in genere le dovresti trovare che non superano la lunghezza del sedere perché sennò abbassano e allargano ovviamente ragazzi il pantalone di lino bianco se vuoi mettere questa camicia per coprire un po le trasparenze basta che arrivi al sedere e copre già le trasparenze poi chiaramente vince l'intimo soprattutto quando porti dei pantaloni bianchi così leggeri come quelli in lino ti conviene avere uno slip una mutanda che sia nude color nude nemmeno bianco l'ideale sarebbe nude perché si confonde bianco rischia magari di vedersi si vede meno del nero ovviamente però quando si tratta di pantaloni in lino bianco leggero così conviene mettere la mutanda color nude ragazze è quella che non si vede andiamo a vedere altri outfit qui ti ho fatto tre esempi diversi il primo è tutto grigio ed è un pantalone ampio molto lungo portato come ti dicevo con la zeppa tipo quella in rafia intrecciata che va di moda andrà di moda sempre quella zeppa lì un bel gilet lungo con la collana lunga è uno stile un po boh quelle di voi a cui piace è uno stile boh perché poi ci metti bracciali porti la zeppa degli orecchini importanti o una collana importante è uno stile boh che con il lino è perfetto quello un bel colore un grigio verde ma quel look lì potrebbe essere fatto anche in altri colori bordeaux perracotta il lino si presta per quello stile un po etnico e anche un po boh poi passo all'ultimo è uno stile un po più d'ufficio vedi che qui ha un pantalone in lino verdone un po più asciutto il modello è quello fatto a carota ti ho fatto un video dove ti parlavo di tutti i pantaloni di tendenza quest'anno c'è anche quello lì a carota cos'è il modello carota più largo nel punto dei fianchi poi si stringe si stringe man mano che va verso la caviglia è perfetto per le donne che hanno i fianchi un po più pronunciati perché li accompagna bene vedi che qui quel tipo di pantalone è perfetto quel verdone così poi ci ha messo sopra la camicia in lino e ha fatto il gioco di rimborsare la camicia la messa nel pantalone poi l'ha un po tirata fuori per nascondere la cintura che ha questo effetto di elastico quello può essere un trucco o come ti ho detto mettere sopra una cintura alta che lo nasconde vediamo come il pantalone in lino sta bene anche con dei top corti magari a fiori con un gusto romantico molto scollati vedi questo abbinamento di crema e verde questo top con le maniche un po sbuffo tutto fiorellini color crema è delicatissima e sotto ha la ciabatta di hermes per farvi capire il genere poi non deve essere per forza di hermes ti dico quello per farti capire di che ciabatta sto parlando e poi la borsa in paglia quella collino perfetta ragazze la borsa in paglia perfetta poi vediamo il secondo outfit più da città ha questa camicia rossa il rosso è un colore di tendenza e anche qui ti ho fatto un video dove ti parlavo di tutti i colori di tendenza per quest'anno quindi camicia rossa abbinata al decoltè a retina che è una moda rosso e poi spezza con il pantalone in lino che però se vedi ha un taglio più sartoriale più diciamo quotidiano un po non è rilassato come gli altri è uno stile con la piega stirata ha una vestibilità che più da quotidiana da giorno è molto meno relax infatti la porta con la cintura il decoltè contrasto cioè puoi fare la camicia di un colore le scarpe dello stesso colore della camicia e il pantalone l'ultimo outfit io trovo che sia stupendo perché ha questo pantalone in lino rosso portato con la superga quindi la scarpa da ginnassica in tela bianca e sopra la camicia a righe azzurra che come ti ho detto è una moda azzurra blu e poi la borsa in paglia outfit facilissimo da fare ragazze ha anche questo gusto old money preppy marina siamo in quei mondi lì è però è molto rilassato e molto comodo questo outfit vediamo ora il floren quelle di voi che mi seguono sanno che è uno dei brand che a me piace tantissimo il lino si presta anche per i completi adesso va di moda il gessato il gessato blu è stupendo vedi il completo in gessato blu e guardate le scarpe da ginnastica che ci sono sotto se sono belle sono veramente belle sono delle scarpe in tela con questa gomma leggermente a contrasto non è tanto contrasto sono sciccosissime quelle scarpe vanno bene anche sotto un pantalone in lino un po più elegantino o ve le faccio vedere anche sotto il pantalone cargo in misto lino quelle scarpe lì oppure le superga le ossa ovviamente siamo in estate quindi la scarpa da ginnastica in pelle fa caldo ragazze andiamo su quella in tela che va meglio per l'estate una maglia con la manica lunga ovviamente siamo d'estate sarà con la manica corta ragazze io lo do per scontato è un po più scollata v e con la manica corta però l'outfit di per sé molto bello guardate anche i colori vediamo degli outfit di pompricks un po più rilassati t-shirt scollata v nera con pantalone in lino fatto quasi a cinque tasche qui ci sarebbe stata bene una cintura ecco qua ci andava la cintura perché troppo semplice manca qualcosa manca proprio la cintura qua e poi le scarpe come ti dicevo i sandali in rafia intrecciati che sono comodissimi che slanciano la figura quando porti un pantalone in lino se hai voglia e ti piace portare i tacchi quella è la soluzione migliore per stare comode di essere alte ovviamente avendo la t-shirt nera fa il gioco del sandalo nero e la borsa nera il secondo outfit pantalone cargo con la scarpa da ginnastica sotto in tela e la sua canottierina color pesca all'inizio del video ti ho fatto vedere le canotte super moda cioè quelle all'americana molto collate però si possono portare anche quelle con la spallina fine e poi al suo giubbottino a secondo della temperatura il terzo outfit anche qui completo gilet pantalone in lino è molto bello questo completo verde menta il verde menta è una tendenza portato con gli accessori bianchi anche il bianco è una tendenza per gli accessori qui te l'ho voluto mettere perché sono delle cose un po diverse uno è la giacca safari quest'anno c'è il ritorno della moda coloniale safari potresti mettere una giacca safari leggera sfoderata con le tasche e la cintura nello stesso tessuto e sotto il tuo bel pantalone in lino e farti un completo un po safari che può essere di questo color crema o può anche essere di altri colori va benissimo poi ci porterai sotto il sandalo o magari l'infradito o se vuoi anche una scarpa da ginnastica in tela quello in mezzo è meraviglioso ragazzi è una garza di lino che già dalla foto si vede che è bellissima questa garza di lino viola col suo top annodato con la manica lunga e poi essendo una garza è trasparente per cui ha il pantaloncino quindi non si vedono le mutande è foderato ed è fatto con la tasca inclinata e tende proprio ad allargarsi a svasarsi un po anni 70 io questo outfit lo trovo stupendo sia per il colore che per il materiale che per il modello e anche quella un'idea da tenere presente top fatto a foulard tiene le due spalle scoperte e fa questo disegno a v nella parte della vita questo serve per slanciare la figura perché poi ha questi pantaloni in lino molto ampi per cui avendo quella v nella parte del punto della vita slancia la figura anche questo è un outfit molto bello vedi che i pantaloni in lino proprio ci sono di tutte le misure l'ultimo con il top fatto a foulard è tanto largo è veramente tanto largo portato che i sandali ragazze va benissimo se vuoi anche la zeppa quella in rafia come si usa tutte le stati e poi non può manchiare il secchiello quello lì in paglia intrecciata qui vediamo in trend voglio farti vedere dei colori belli strong secondo me lino si presta benissimo per i colori forti è ancora più bello ancora più stupendo allora abbiamo tre vestibilità di pantaloni diversi ragazze vedi che qui sono tre forme di pantaloni il primo è un po più largo dritto il secondo è un po più asciutto il terzo è stile Audrey Hepburn vediamo come il lino si presta molto bene se ti fai il monocolore però colorato strong vedi che bei colori questi belli con del carattere con della personalità belli colorati poi chiaramente ci devi mettere degli accessori che possono essere se vai sulla paglia sul color cuoio sul beige collino vinci sempre perché si presta se no come l'ultima mi puoi arricchire l'outfit per renderlo un po meno anni 60 e un po più anni 2000 diciamo me lo puoi mettere con delle collane colorate la borsa si rafia ma magari colorata la ballerina ok però un po colorata giochi a mettere insieme i colori vedi che questi sono tre outfit da cui prendere ispirazione ragazze facilissimi da fare e poi quando hai il lino vai anche con i colori è vero che rende bene con i colori naturali però anche con i colori intensi è stupendo ragazze stupendo bene ti ho fatto vedere tantissime idee ci sarà qualcosa che ti piace qualcosa che non ti piace ragazze normale io devo fare dei video dove parlo di tanti stili come ti ho detto sono stilista per cui parlo di tanti stili non di quello che mi metto addosso io ma di come si ci si può vestire in tanti modi diversi adesso rispondo un'altra domanda che mi è stata fatta perché il lino punge capita di andare nei negozi provare dei capellino che pungono potrebbe potrebbe essere ramie che è diverso dal lino wikipedia ci spiega che cos'è questo ramie che viene dalla ramia che è una pianta che è molto coltivata in cina corea brasile e filippine cina corea brasile e filippine il ramie è un tipo di materiale che si usavano usavano prima del cotone che comunque gratta rimane rigido e gratta ci sono quelle con la pelle più sensibile quella con la pelle meno sensibile in genere da fastidio e gratta nei tempi che furono prima che arrivasse il pronto moda noi facevamo molto attenzione nelle collezioni a mettere il ramie a usare il ramie lo usavamo e lo foderavamo quando facevamo dei capi il ramie perché c'era molto questa differenza adesso è tutto mischiato come cose non si capisce più cosa sia lino e cosa sia ramie però nei tempi che furono prima che ci fosse il pronto moda si faceva molta differenza cioè te lo dicevano questo capo è il lino questo capo è il ramie perché non usavamo tanto volentieri il ramie pur essendo più economico del lino ecco perché ragazze il ramie costa meno del lino il lino se è puro lino ed è lino 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 non gratta non punge ed è morbido l'aspetto da fuori il tessuto sembra lino per quello che lo vendono anche come lino però il ramie se tu lo metti addosso e punge molto probabile che abbia del ramie che costa meno quindi abbattono i costi con ramie come lavare il lino no ammorbidenti no candeggina lavare con lavaggio delicato no asciugatrice asciugare all'aria aperta e all'ombra stirare leggermente umido poi se ti capita di comprare un capo di lino nuovo che magari è colorato rosso blu lavalo in acqua fredda a parte così vedi se scarica il colore soprattutto quando i capillino sono nuovi conviene dargli la prima lavata conviene farla a parte per vedere se scaricano il colore poi dopo due tre lavaggi non lo scaricano più se no ti stinge anche gli altri capi questo è anche un'altra cosa da tenere presente bene spero che questo video ti sia piaciuto vai a vedere il video sui pantaloni di tendenza vai a vedere il video su come portare jeans tutti jeans perfetti per te vai a vedere il video sulle scarpe e sulle tendenze moda c'è anche il video sui colori di moda se ti piace l'abbigliamento da cerimonia hai un matrimonio un evento ho fatto ben due video sulla cerimonia 100 abiti da cerimonia e i sul mio canale trovi davvero tanti consigli per vestirti per tante tante idee se hai voglia di essere sempre diversa noi ci vediamo tutte le settimane su youtube iscriviti se questo video ti è piaciuto condividilo con le tue amiche che potrebbero avere la curiosità di vedere come abbinare il pantalone in lino noi ci vediamo anche su instagram seguimi anche su instagram troverai sul mio canale dei video dove disegno insegno a disegnare il figurino di moda perché come ti ho detto sono stilista la differenza che c'è tra stilista influencer è che l'influencer fa marketing e ti vende dei prodotti come abbigliamento o trucchi mettendosi lì addosso ti fa vedere quello che ha comprato quello che è l'armadio come si veste quella è l'influencer la stilista fa un'altra cosa cioè veste le donne quindi io nei miei video ho volutamente scelto di essere seduta la scrivania perché faccio la stilista e al momento non faccio ancora l'influencer mi ha fatto piacere anche oggi stare qui con te un grande saluto da patricia pato 74 ciao